Namaste, periodo di feste, gioia, luci, colori, shopping, eppure per alcuni invece è un periodo carico di stress, di ansia, di paure e di dolori. Se ti senti sopraffatto in questo periodo, beh, intanto è assolutamente normale, perché in questo periodo arriva un vortice di emozioni che ci travolge completamente. E non tutti siamo in grado in qualche modo di affrontarlo nella maniera giusta. Magari c'è una sensazione di tristezza per qualcuno che non c'è più, magari un trauma infantile che viene rivissuto in questi incontri familiari, magari un'aspettativa delusa. Quindi la prima cosa da sapere è che è assolutamente normale, ma che soprattutto non sei da solo. Tantissime persone vivono questo periodo in questa maniera. Quindi la cosa da fare però è non combattere queste sensazioni, ma abbracciarle. Abbraccia il dolore di una perdita, di un'aspettativa, di un trauma, comprendi da dove vengono e semplicemente non spingerli via, ma accogliele e cerca di vivere il momento. Se una persona cara non c'è più, beh, ricorda i momenti belli passati. Se hai un trauma di quando eri piccolo, beh, adesso sei un adulto, nessuno ha il potere di farti del male, ma tu puoi controllare questo. Se hai un'aspettativa delusa, ancora una volta, non dipende da te, quindi fermati e cerca di goderti ogni singolo istante. Cerca di godere di quella luce, di quella riunione, di quel maglione rosso, di quell'atmosfera, ma soprattutto ricordati che tu sei più forte di tutto quanto.